Di animali, o meglio, a volerne parlare sono tutti coloro che nel territorio biellese si occupano di questo. Particolare attenzione è stata dedicata a questa delega negli ultimi anni, tra l'altro particolarmente sentita dai cittadini, perché ormai l'animale domestico è diventato un vero e proprio componente della famiglia. Assessore, allora, intanto i progetti che avete in ballo sono veramente tanti. Allora, sì, qui siamo praticamente nell'area del Giardino di Angelo, che è la principale, dove comunque il nostro caro Alberto sta facendo dei lavori grandissimi e a servizio comunque di tutta la cittadinanza. Adesso sta attrezzando una nuova area e stiamo attendendo i giochi. E pian piano il Parco della Rovere sicuramente sarà adibito anche a quelle che sono delle attività per i nostri giovani bambini. E quindi direi oggi facciamo un giro con l'assessore regionale Chiara Caucino, proprio avendo avuto da poco la delega a tutela del benessere degli animali, proprio per far visitare le realtà che abbiamo noi qua a Biella, che sono comunque nobili e apprezzevoli da parte di tutti quanti, sinceramente anche noi dell'amministrazione. Allora, senta Sindaco, lei è stato fotografato più volte in compagnia del suo fido amico, quindi insomma è un tasto sensibile per lei. Iago, Giacomo, Giacomo. Iago perché in spagnolo... Vedete, io ero uno che amava particolarmente i gatti, i cani mi amava un po' meno, anche perché mi hanno morso cinque volte quando ero un po' più piccolo. E poi con Iago è scoppiato un amore, perché quando io arrivo magari lì e vedo che questo amico viene lì e senza che nulla io gli devo e nulla lui deve a me viene qui e mi fa delle feste che i gatti purtroppo non ti fanno perché sono un po' più... E allora mi ha un po' toccato il cuore, sai. L'associazione, l'importanza delle associazioni, Alberto. L'assessore Bessone ha lavorato molto in questi due anni. L'importanza anche di aver fiducia delle associazioni e della cittadinanza. Il fatto che quando uno ha un progetto non debba aspettare 100 mila euro dallo Stato per spartirsi la torta, ma dire mettiamo noi soldi come cittadini e facciamo quello che vogliamo fare per la nostra città. Quello che vedete qua il Comune ci ha dato la possibilità di crearlo ed è tantissimo perché c'è chi ti dice no. Questo è tutto frutto di donazioni dei cittadini e secondo me è un grandissimo risultato dove Biella è prima in Italia perché non mi risulta ci siano altri parchi cani così in Italia fatti con i contributi dei cittadini.